Cortina a teatro, la stagione concertistica e teatrale ampezzana coorganizzata dal comune di Cortina e dall'associazione trevigiana Musincantus con il supporto del circuito multidisciplinare regionale Arteven, torna con un ricco cartellone invernale e con un nuovo importante progetto, connotandosi come importante partner culturale che affiancherà l'appuntamento sportivo delle Olimpiadi del 2026. La programmazione è iniziata domenica 5 dicembre e prevede otto appuntamenti fino al 19 marzo prossimo. Si tratta, secondo l'ormai noto DNA di Cortina a teatro, di proposte trasversali che spaziano tra generi e target differenti in dialogo costante con le realtà del territorio per incontrare l'interesse del pubblico variegato della regina delle Dolomiti. Non manca tuttavia una grossa novità, un vero e proprio progetto nel progetto che legherà da quest'anno e fino al 2026 Cortina Treviso e Legnago nel Veronese, tre località che sono espressione di una partnership d'eccellenza tra Musincantus, il maestro Donato Renzetti con il progetto Obiettivo Orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni, l'orchestra regionale Filarmonia Veneta e la Filarmonica TRT Teatro Reggio Torino. Si tratta di Nell'Olimpo di Beethoven, un percorso pluriannale che culminerà proprio nel 2026, anno olimpico, con l'esecuzione integrale dei concerti per strumento di Beethoven. I virtuosi del pianoforte e orchestra come i campioni sportivi, il direttore d'orchestra come l'allenatore del team e tutti insieme una squadra musicale che brillerà nel 2026. L'iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e dalle province di Treviso e di Belluno.